Ciao a tutti, se sono qui è per merito di Matteo Marzotto che mi ha coinvolto in questa bellissima iniziativa. Sono diversi anni che facciamo queste pedalate pensando e cercando di fare qualcosa per la ricerca contro la fibrosicistica. E quindi è un piacere aver pedalato su queste strade, è un piacere aver incontrato tutte queste delegazioni e soprattutto è un piacere incontrare persone che fanno di tutto per risolvere un grosso problema. Quindi grazie a Matteo che ha avuto l'idea di creare questo bike tour. Tra l'altro io sono particolarmente contento anche perché pochi minuti fa Vincenzo Nibeli ha vinto il Giro di Lombardia. Quindi viva l'Italia e grazie a Matteo, grazie alla Fondazione e a tutti voi per questa magnifica accoglienza.